il karate è l'arte del sentire non ci credi te lo dimostro in questa puntata sono un pirata del karate sono un pirata del karate sono un pirata del karate sono pirata del karate sono una pirata del karate sono eugenio credi dio e questo è pirati del karate buonasera ciurma e benvenuti a questa nuova puntata di pirati del karate il podcast dei karate cal liberi che vogliono tornare a praticare il karate in una certa maniera lontana da tutte quelle dinamiche di palazzo che rovinano la nostra arte e lontane da tutte quelle dinamiche federali che non ci permettono di crescere tutti quei karate che vogliono praticare un karate libero onesto sincero fa molto politica sta cosa qua fa molto manifesto politico però questo è questa è la quindicesima puntata come sempre il venerdì sera alle 18 e 30 ci prendiamo questa nostra mezz'oretta assieme a fine settimana per fare dei ragionamenti parlare e discutere di questa disciplina che amiamo tanto e che ci fa battere il cuore che è il karate tradizionale il karate do e io sono eugenio credi dio il vostro capitano il vostro sensei scelto da voi eletto da voi popolo e non da dio come succede altrove e vi guido in questo nostro percorso assieme oggi parliamo del karate come arte del sentire è un ragionamento che avevo fatto tempo fa sul mio canale telegram e che ci tenevo a riproporvi in maniera più articolata ma prima di iniziare permettetemi per chi appena è salito a bordo di dare le coordinate così che possiate orientarvi meglio e invece se siete già saliti a bordo da tempo beh repetita juvent perché non fa mai male il nostro podcast esce tutti i venerdì sera appunto alle 18 e 30 ma non è l'unico posto in cui sentire la mia voce l'unico posto in cui stare assieme intanto c'è una community telegram che sta pian piano crescendo cercate su telegram pirati del karate lascio il link in descrizione però cercatelo e iscrivetevi così possiamo parlare assieme condividere esperienze libri farci domande insomma fare tutto il possibile per creare una community vivace viva e che dia valore alla nostra pratica inoltre sulla community do un po di notizie in anteprima per esempio sulla community organizziamo le live su instagram dove rispondo a delle domande tecniche generalmente e stiamo organizzando la prima proprio adesso a ottobre dopodiché c'è la possibilità intanto di dare di fare la vostra dichiarazione di appartenenza e partecipare in maniera attiva al podcast proprio come hanno fatto i ragazzi e le ragazze della sigla e di fare le vostre domande a cui rispondo durante il podcast ok quindi c'è un bel po un po di roba che si può fare tramite la nostra community poi esiste una newsletter privata la newsletter dei 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 pirati e per iscrivervi dovete andare sul sito del dojo shinsui che è il nostro quartier generale virtuale dojo shinsui.com slash gazzettino dei pirati o slash repubblica pirati e vi potete iscrivere alla newsletter dei pirati e ricevere tutti gli aggiornamenti tutto il materiale che pubblico riservato a voi e anche sul gazzettino mi raccomando datevi una bella occhiata perché anche lì di materiale ce n'è e poi cos'altro dirvi di importante prima di partire a sì 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 a novembre stiamo organizzando il primo evento fisico dei pirati del del karate il primo seminario dove ci vedremo sul tatami nel nostro quartier generale fisico che è il dojo shinsui di alessandria il mio dojo e ci alleneremo assieme il 17 novembre al pomeriggio un sabato ci vediamo pratichiamo probabilmente lavoreremo su teki shodan uno dei kata che non viene mai studiato e che è tanto bello e su come applicarlo in maniera un po gustosa in maniera all'eugenio chi mi conosce sa che le mie applicazioni sono di solito un po fuori da dagli schemi bene mi sembra di aver dato tutte le direttive e quindi direi che possiamo addentrarci nella nostra puntata il karate è tante forme di arte è una vera e propria matrioska il karate ci insegna davvero tante cose prima di tutto e questo è visibile a tutti ci insegna una forma un'arte anzi di combattimento e con questa un'arte di muovere il corpo di gestire il corpo di padroneggiare i movimenti del corpo il karate ci insegna l'arte di del controllo il controllare i nostri colpi per controllare noi stessi per imparare a controllare le nostre emozioni e per imparare a quindi disciplinarci anche cosa molto importante perché solo se io ho il controllo posso decidere di adoperare questo controllo oppure no di lasciarlo andare oppure no insomma di comportarmi in determinate maniere oppure no e poi è anche l'arte dell'appunto del disciplinarsi dell'auto disciplinarsi del resistere in un certo senso è anche l'arte di onorare gli impegni la parola data tutte queste cose e anche di più ci insegna il karate e magari perché no scrivetemi nei commenti mandatemi un email eugenio chioccio a dojo shinsui punto com fatemi sapere secondo voi che cosa il karate ci insegna che forme di arte ci insegna ma a parte tutto questo il karate a parer mio ci insegna un'arte meravigliosa e che un po stiamo andando a perdere che è l'arte del sentire il karate è prima di tutto sentire ma cosa intendo per sentire beh in prima istanza sentire il nostro corpo quando noi pratichiamo se vogliamo fare una pratica profonda consapevole dobbiamo imparare ad ascoltare a sentire le sensazioni del nostro corpo a dialogare con il nostro corpo a entrare nel nostro corpo in questo strumento meraviglioso straordinario che ci è stato donato e che spesso diamo per scontato o trattiamo un po invece il karate ci obbliga a entrare appunto nel corpo a sentire il corpo quando riceviamo una correzione per esempio dal maestro dobbiamo sentire nel corpo che sensazioni questa correzione ci dà per poterle ricercare di nuovo e ripetere il movimento in maniera più corretta quando siamo in una posizione dobbiamo sentire il corpo cosa ci dice dobbiamo sentire la caviglia che lavora sentire il quadricipite che si contrae per reggere il nostro peso del corpo oppure che l'asco e fa sì che il ginocchio lavori male per esempio nello zen kutsu daci o sentire l'energia che parte dal piede passa dalla gamba e poi viene trasferita al bacino alle anche e ed esonda dal tsuki con la contrazione muscolare se noi impariamo a sentire il nostro corpo a dialogare nel nostro corpo avremo una pratica molto più consapevole molto più presente molto più soddisfacente che ci permetterà di avere anche un gusto maggiore in quello che faremo anche quando c'è della ripetitività anche quando magari può farsi presente la noia perché se noi impariamo a sentire impariamo proprio a entrare dentro noi stessi e a percepirci da dentro e noi spesso queste cose non le facciamo anche sentire perché il nostro corpo magari si sta lagnando perché oggi mi fa male la caviglia la schiena perché questa posizione mi dà fastidio perché oggi non riesco a fare questa cosa che ieri l'altro ieri o un mese fa o un anno fa mi era tanto facile impariamo a sentire il nostro corpo e a dialogare con lui a trovare di nuovo quell'unicità che forse stiamo perdendo perché stiamo sempre più distaccando corpo e mente quando se riuscissimo a farli lavorare come un unicum forse avremmo una piacevolezza una un approccio proprio alla nostra vita alla nostra quotidianità e un rispetto forse della nostra vita della nostra quotidianità anche diversi è l'arte del sentire anche nel senso di ascoltare io devo imparare ad ascoltare il mio maestro ad ascoltare i miei compagni a sentire realmente quello che mi dicono che stanno cercando di trasmettermi perché nel bene o nel male comunque mi stanno facendo un dono il maestro quando mi trasmette la sua conoscenza mi sta donando la sua esperienza alle volte lo fa in una maniera più precisa più diretta più appropriata alle volte magari involontariamente pasticcia un po e non riesce a farlo nella maniera in cui vorrebbe farlo ma tutte le volte cerca di farmi sentire qualcosa di farmi percepire qualcosa io devo attivare un ascolto appunto attivo non passivo e cercare di sentire nel profondo quello che mi vuol dire così come i compagni perché mi sta dicendo questa cosa perché il mio compagno si sta comportando in questo modo qui se io voglio praticare in modo più consapevole presente devo anche imparare a sentire loro perché nonostante il karate sia un'attività che si fa non di squadra che si fa da soli è un'attività che richiede tantissima interazione con i nostri compagni di pratica non siamo una squadra nel senso che non giochiamo a basket a calcio a pallavolo e quindi non ci comportiamo come una squadra ma senza i nostri compagni la nostra pratica sarebbe molto più difficoltosa e zappa e quindi è importante sentire anche loro e poi e beh poi il karate è anche l'arte del sentire il proprio compagno ma in un senso diverso forse un po più profondo è l'arte dell'entrare in connessione con lui del sentire i suoi movimenti del percepirlo del muoversi assieme a lui e non contro di lui perché questo è il lavoro in coppia questo è il livello secondo me più alto e più bello del kumite tradizionale inteso non come scontro ma come incontro di mani non quel kumite che vediamo a livello sportivo quel kumite che cerca i punti che cerca la tecnica spettacolare e su cui non ho niente da da dire non sto facendo una critica nei suoi confronti ma quel kumite più marziale più tradizionale che è una partita scacchi una sfida fra due animi che devono entrare in connessione e lavorare appunto assieme quello è il sentire se io voglio fare un certo tipo di kumite devo entrare in connessione col mio compagno sentire le sue intenzioni sentire quello che vuol fare sentire i suoi movimenti e da lì lavorare per muovermi assieme a lui e non contro di lui ed è una cosa meravigliosa io spero vivamente che riusciate a praticare questo tipo di attività che arriviate a praticare questo tipo di attività perché ragazzi vi cambia profondamente l'approccio al karate e al modo di praticare e vi cambia profondamente l'approccio al kumite però qua arriva la domanda come facciamo a sentire come facciamo a riuscire a ottenere questo questo risultato come facciamo a farci appunto a entrare in questa dimensione beh c'è una porta una porta che oggi a noi non piace tanto varcare perché dietro quella porta ci sono spesso tante cose che ci danno fastidio tanti attriti tante cose che non vogliamo vedere o ascoltare e oggi tra l'altro ci sono molte possibilità di evitare di aprire quella porta e questa porta è la porta del silenzio l'unico modo per imparare a sentire l'unico modo per ascoltare è stare in silenzio in silenzio col nostro corpo in silenzio con noi stessi il silenzio con la noia in silenzio durante la pratica in silenzio coi nostri compagni perché perché solo dentro il silenzio che possiamo sentire tutte queste informazioni ricche meravigliosi importanti che però non vengono gridate ma che vengono bisbigliate e che a volte sono sotto ad altro quando noi stiamo in silenzio spesso ci troviamo di fronte a paure a disagi a situazioni che non ci piacciono e quindi noi il silenzio lo fuggiamo e oggi è facilissimo riuscire a scappare dal silenzio perché perché abbiamo in tasca uno dei più grandi strumenti di distrazione di massa che è lo smartphone e che ci permette ogni volta che abbiamo l'occasione di stare in silenzio di riempire questo silenzio questo vuoto ragionateci un attimo quando è l'ultima volta che siete stati fermi nel vuoto nel silenzio vuoto che poi tanto vuoto non è ve lo ricordate probabilmente è stato tanto tempo fa perché oggi abbiamo questo meccanismo questa abitudine che ormai si è stampigliata a fuoco nel nostro cervello che appena c'è un attimo di stop appena c'è un attimo di silenzio appunto noi lo dobbiamo riempire perché perché il silenzio ci obbliga a stare con noi stessi e noi stessi siamo veramente dei compagni di avventura persimi perché quando stiamo da soli con noi stessi tiriamo fuori i nostri problemi le nostre ansie le nostre preoccupazioni i nostri dubbi tiriamo fuori un po il nostro abisso interiore e quindi appena possiamo via scappiamo e abbiamo questo fantastico strumento che ci permette di di scappare per cui in quelle occasioni in cui il silenzio magari è un pochino più forzato il disagio aumenta la noia la difficoltà aumentano perché non abbiamo più questa abitudine no appena rotto la penna scusatemi stavo giochicchiando mentre registravo il podcast e ho appena rotto la penna peccato è una big niente di che però mi spiace quando e qua parte il momento boomer o vintage quando eravamo più giovani c'è un quando io ero più giovane quelli della mia età era era erano più giovani e c'è un bellissimo pezzo comico che cerco di ricordarmi e di mettervi in descrizione qua che spiega bene questa cosa noi avevamo molta più occasione di stare in silenzio di stare con noi stessi perché quando dovevi prendere il pullman non potevi fare nient'altro che stare in silenzio e guardare fuori quando dovevi riavvolgere una videocassetta cosa facevi niente stavi lì ti smaronavi le balle e aspettavi che la videocassetta o la musicassetta venisse riavvolta e stavi in silenzio ogni volta che non c'era qualcosa da fare stavi in silenzio e facevi i conti con il silenzio e con la noia e diventavano cose facili da gestire oggi invece è molto più complicato per voi una bella sfida perché non ci siete abituati e non ve ne frega niente anzi non vi sfuggite fate tutto il possibile per fuggire da questa situazione ed è comprensibile e lo stiamo iniziando a fare anche noi più grandi anch'io qualche volta senza neanche rendermene conto mi trovo a cercare di riempire dei vuoti ed è un peccato l'unico modo per riuscire a sentire davvero è ridare valore al silenzio riappropriarsi del silenzio con tutto ciò che ne consegue di bello e di brutto e questo ci permetterà vi permetterà allora di imparare a sentire tutte quelle cose che il pieno il troppo pieno non ci fa mai percepire il nostro corpo i nostri compagni il nostro maestro e tutto ciò che sta attorno il karate ci obbliga un po a fare questo ma provateci ok e soprattutto provate a prendere questo questo insegnamento questa abitudine di pratica e portarla come sempre anche fuori dal dojo e credo che sia un approccio un come dire un modo di fare che possa nella sua semplicità davvero arricchirvi un po cosa ne pensate mi farebbe piacere sapere la vostra nei commenti piuttosto che sulla nostra meravigliosa community di pirati del karate su telegram oppure o se volete mandatemi un email eugenio chiocciolo dojo shinsui.com io sono molto lento a rispondere ultimamente ma rispondo e rispondo sempre e oppure magari mi dite no genio guarda capito un cazzo per me sta roba qui no io vedo nel karate questo questo quest'altro va bene comunque ok fatemelo sapere fatemi sapere se riuscite a sentire se avete mai visto il karate da questo punto di vista e se invece per voi magari ci sono degli aspetti più importanti di di questo ok bene direi che per la puntata 15 del nostro podcast ci siamo abbiamo detto tutto quello che c'era da dire la nostra birretta del venerdì sera ce la siamo fatta io come sempre vi auguro un buon fine settimana spero che ve lo passiate bene vi rigeneriate carichiate le vostre batterie e per qualunque cosa mi raccomando scrivetemi non ci sono problemi andate sul sito del dojo shinsui dojo shinsui.com slash gazzettino del dojo avete accesso a tutto il quantitativo imbarazzante di materiale che produco gratis per voi per cercare di aiutarvi a praticare in maniera più non lo so consapevole o darvi spunti di riflessione insomma quello che è dal punto sia sotto il punto di vista tecnico che sotto il punto di vista diciamo un po più filosofico e come sempre io vi auguro una buona pratica vi abbraccio e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata di pirati del karate ciao vuoi unirti alla repubblica indipendente dei pirati del karate vai su dojo shinsui.com slash repubblica pirati